che vi devo dire ho preso il vizio anch'io vi lamentate sempre che faccio i video contro le persone e appena avete la possibilità di scegliere votate in massa con l'ennesimo sondaggio di fare un video contro un personaggio come è successo all'epoca con scheraggi oggi toccherà a giovanni foice quindi non sarà un dissing ma una mia recensione di giovanni come atleta come coach per quello che possiamo vedere sul suo canale e poi qualche considerazione come youtuber quindi cominciamo il primo video con cui voglio iniziare la sua gara attrezzata che ha fatto mi pare due anni fa in FPL quindi powerlifting completo dovrebbe essere il campione italiano di powerlifting ma non ne sono sicuro perché non sono andato a controllare in ogni modo è una gara in cui si fa squat punk e stacco con l'attrezzatura quindi c'è il riscaldamento tipico anch'io mi cagherei sotto prima di una gara un po per la tensione corpetto super centurion più fasce con 240 vedrete che è molto difficile scendere con questa roba perché siete come ingessati infatti non è sceso abbastanza era parallelo ha riprovato lo stesso peso vediamo come scende devo dire che è un atleta molto longilineo quindi l'attrezzatura può aiutare specie nel ghiera a colmare delle leve un po sfavorevoli la maglia da punk ovviamente è solito usare dicevo la maglia da punk è solito usare la board per arrivare a toccare prima di sto facendo una recensione della gara di foice dovrei parlare di lui che noia ragazzi è per questo che le gare attrezzate non se le caga più nessuno qui con la maglia mi pare che avesse 180 molto aperto con impostazione da quello che ho visto giovanni ha un 150 euro quindi ci prende diciamo normale sulla maglia sui 50 kg super katana da quel che vedo andiamo avanti 187 caritori era meno 93 quindi la mia categoria ma oddio esultare per un 187 e mezzo non è che sia un gran che però posso capire se è la prima volta che li fa adesso prova la terza concentrano da due e mezzo potete fare 200 kg no praticamente fate il massimale attrezzato il massimale roo diciamo che non è la sua alzata la banca andiamo alla prima di stacco vabbè dopo questa cagata andiamo avanti 240 pensavo fosse più forte di stacco devo dire che sono pesi che dovrebbe fare senza colpetto ha montato anche molto bene questo video molto dinamico ci sono varie riprese io pure tempo fa ho fatto un video della fpl e avrei voluto farlo così ma quella cosa che vedo è che lui non carica tanto il corpetto cioè tende a partire molto in punta e il corpetto se non si scende abbastanza non si tende molto il tessuto quindi ha meno accumulo di energia e non mi stupirei se facesse più o meno gli stessi chili anche senza 267 e mezzo presa mista infatti vedete come parte non riesce a caricare il corpetto come vada vai ma stava scherzando andremo a ripescare una gara roo che ha fatto tempo fa dove tra l'altro partecipai anch'io come allenatore fu lì la prima volta che lo vivi qualcuno mi ha detto che sia autodefinisce il powerlifter più estetico d'italia mi chiedo però come faccia con tutte queste porcherie che mangia tutti i giorni eccola qua gara di roma 600 kg quindi lui fa 600 euro e 707 attrezzati non è che sia un granchè potrebbe prenderci molti più chi dell'attrezzatura vediamo un po questa prima di squat c'è un buon movimento bella stance buon controllo devo dire che non me la ricordo la sua gara io c'ero ma come assistente si vede che ha fatto una categoria inferiore non lo so 220 kg massimale dovrebbe fare marco pt praticamente ciao margine questa è una gara roo ovviamente quindi sono previste ginocchiere cinta e polsini non di più anche perché se non tiri tanto lo squat almeno arrivi più fresco alla panca vediamo un po 127 e mezzo c'è pure un buon controllo forse userei un po più dorso in negativa ma mi sembra che un po l'ha mollato ma infatti non l'ha fatti terza prova ci riprova ma era bruciato fare lo squat in gara può togliere anche chili ragazzi quindi è prevedibile fare un po di meno capisco che lui ci sia non mi sa che non ci sarà una prossima volta perché dopo di che ti dai al food porn sì 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 bla 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 andiamo avanti ok lo stacco la sua alzata in cui più predisposto sì ma quanto ha fatto per il non saltato 200 e mezzo tra un po fa gli stessi kg di squat vediamo la seconda 230 si è sprecato lo poteva chiamare un po di più mi correggo considerando i chili che ha fatto con il corpetto probabilmente ci prende più con l'attrezzatura però semplicemente è una sega con il woo e ci prende tanto con l'attrezzatura andiamo avanti e cerchiamo un altro video in cui allena un ragazzo mamma mia ma quanti video fa ma quante boccherie pubblica tutti i giorni ma è ancora vivo quest'uomo scusate ragazzi ma tra un po lo trovo devo vedere dove cavolo ha fatto c'era un video in cui seguiva un ragazzo in palestra o come ho fatto io con marco pt dava i consigli se riesco a ritrovarlo se non avete capito ho posizionato la mia tv nella mia palestra per avere questa sorta di screensaver o effetto schermo verde semplicemente non c'avevo poi di tagliare il video su e metterlo nelle mie ispezioni quindi ho fatto in questo modo qui spero che apprezzate lo stesso si può cucinare un pollo con 50.000 schiaffi ma c'è gente che segue questa roba adesso analizzeremo giovanni come coach guardando questo video praticamente allena un ragazzo in palestra vediamo giovanni come personal trainer classico ovviamente raccontare con quanto ha iniziato con quanto sei migliorato le solite cose lo fanno tutti la cosa che intanto mi disturba e c'è uno specchio davanti al ragazzo e quindi questo non ti permette di lavorare di propriocezione cioè tu devi affidarti alla vista per poter capire dove sei no io gli avrei detto semplicemente guarda ribaltiamo facciamo lo squat in fuori oppure cambiamo postazione da giovanni che è un agonista mi aspetterei appunto che stessi attento a questi particolari perché uno in gara lo specchio non ce l'ha quindi falsa parecchio però come me pare che il ragazzo guarda per terra e magari non lo vede non capisco come possa vedere la valida mettendosi dietro comunque ci sono le sbarre di sicurezza quindi non ha bisogno di mettersi attaccato e non riesce neanche a vedere se sta caricando bene il femorale che fa un po lo spotter più che il personal qui ok che deve fare i massimali però un consiglio magari di scaldamento lo si può sempre dare vedo poi che fa una sorta di inarcamento lombare non gli ha detto niente quindi non c'era bisogno di prenderlo bastava lasciarlo cadere il ragazzo sicuramente sarà contento di essere migliorato ma insomma qui cerca di aggiustarli facendo di capire che deve sentire il dorso vedo che il ragazzo scende molto aperto con i gomiti sembra che non frena molto col dorso se lo tira addosso piuttosto di frenarlo infatti il bilanciere fa quasi un rollio quando arriva al petto perché perde tensione non è un fermo qualitativo 100 kg massimale che tutti vorrebbero e che master wallace indica come il limite già alto per il natural adesso vediamo che succede con più peso e l'ha mollato l'ha mollato completamente non riesce a frenare col dorso una panca simile a quella di marco che avete visto nei miei ultimi video si direi che hai ragione su questo ma devi trovare anche la soluzione però giovanni non è che puoi solo trovare i difetti ma non è che si ferma lo molla proprio sul bilanciere sul petto c'è una buona leva per lo stacco braccia molto lunghe direi che questa è l'alzata che teoricamente giovanni si sente più di casa e sa anche come correggere un allievo molte volte i coach tendono a trasportare i propri difetti e i propri anche le proprie qualità sui propri allievi e la differenza è che se hai tanta esperienza con tante persone riesce anche aggiustare soggetti che hanno un apparato muscolo scheletrico un po più diverso dal tuo ovviamente uno secondo tante persone non si può ricordare con quanto ha iniziato quindi è solito chiedere quanto facevi quant'è che hai fatto l'ultima volta ragazzi a meno che non abbiamo un block notice davanti è un po difficile memorizzare tutto 190 non male non male ragazzo c'è buona leva per lo stacco sono sempre contenti quando si migliora capisco benissimo lo stupore adesso la parola 200 troppo avanti stava no è un bravo ragazzi giovanni come atleta sicuramente lo rispetto perché si è cimentato sia nel gear sia nelle gare senza attrezzatura quindi è un atleta completo da suo punto di vista non fa solo uno solo l'altro sicuramente lo stacco è l'alzata in cui è più predisposto ma anche nel resto se la cava abbastanza bene io l'ho visto dal vivo è molto meno impressivo da quello che sembra magari in certe foto che mette da tirato molti mi dicono che addirittura io parlo come lui non è che mi assomigli tanto alla fine forse in modo di parlare il gesticolare ma non è che abbiamo lo stesso tono per cui vi devo dire la recensione sicuramente positiva ottimo atleta come coach sicuramente può migliorare a livello di input tecnici e come youtuber cosa devo dire ciao tanta volte i miei iscritti l'unica cosa è questa sua deriva in cui punta a mangiare tutte queste porcherie non ho ben capito come sia riuscito a passare a 800 mila iscritti semplicemente cambiando tema al canale cioè da quello che mi hanno raccontato praticamente lui dal giorno all'altro ha cominciato a fare questi tipi di video in cui mangia ristoranti più o meno famosi e ha trascinato parecchie persone a iscriversi al suo canale un po' come se io con l'ultimo video di tecnici avessi sbancato e basta ragazzi mi do al video gaming tutto dipende da come tu vuoi essere visto sicuramente ci avrà già il suo bel business quindi non ha bisogno di fare il professore di powerlifting anche perché uno sport che non porta soli l'avrà capito anche lui come l'ho capito anche io e quindi semplicemente si dedica di fare le cose che più gli piacciono mangiare porcherie nei ristoranti più famosi e vi aspettavate un video di issi in cui lo prendevo in giro penso che rimarrete delusi alla fine semplicemente fatto una recensione delle sue gare a meno di quel poco che ho visto attrezzatelo di quel ragazzo che ha seguito come allievo e del suo canale in generale che vedo che comunque quotatissimo quindi il mio non vuole essere una marchetta ma neanche essere un video cattivo in cui devo dissarlo per forza anche perché giovanni non mi ha mai fatto nulla di male non è che posso provocare gli altri con lo scopo poi di dissarli aspetto sempre che siano gli altri al massimo a farlo spero che siate sazi e soddisfatti di questa mia recensione su giovanni che ripeto è un ottimo atleta ma le ha alzate molto buone tecnicamente ha una struttura abbastanza esile forse più votata al manfisic che al powerlifting ma nonostante questo c'è dei buoni numeri come coach magari è stato un po' superficiale dal punto di vista degli input ma voglio dire per questo video ho comprato per l'occasione un filtro polarizzatore fare in modo che non ci fosse riflesso sulla tv della videocamera e ho preso anche questo piccolo dispositivo che è un microfono wireless che è senza fili se vi ricordate il video con marco c'era sempre quel maledetto cavo penzolante che devo trascinare di qua e di là invece con questo affare basta che me lo tengo addosso e posso spostarmi liberamente ormai mi sto attrezzando peggio di un professionista per quelli che si aspettavano il sangue e gli insulti mi spiace ma non è quel tipo di video spero che i suoi fan non si infermonino anche se pensa che la maggior parte di loro sia gente che frequenta ristoranti più che palestre aggiudicare gli ultimi video un saluto alla prossima se vi è piaciuta l'attrezzatura che ho usato in questo video potete acquistarla sul sito powergear.it e potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 che è spendibile per qualsiasi attrezzatura trovate nel sito vi basterà semplicemente riempire il carrello e poi aggiungere sul coupon la scritta DOOM64 per avere un 6% di sconto sul totale quello che vi consiglio ovviamente di comprare un half rack un bilanciere e un set di dischi insieme alla panca piana se poi volete evitare di avere noie con i vicini una bella pedana power gear professionale fa il caso vostro per qualsiasi domanda inerente all'attrezzatura potete scrivermi sotto ogni mio video e io sarò felice di rispondervi a